Ciao amici di Aurora Channel. Oggi faremo un lavoretto per Pasqua. Un coniglio porta oggetti. Possiamo metterci dei piccoli ovetti. Per fare questa scatolina ci servono delle forbici, una matita, una gomma e i colori e un foglio di carta. Per fare questo lavoretto da un foglio rettangolare dobbiamo farlo diventare quadrato. Per fare il quadrato ci basta prendere un angolo e piegarlo in questo modo. Poi piegare la striscia che rimane da una parte e dall'altra e staccarla. Ecco il nostro piccolo quadrato. Adesso abbiamo una diagonale del quadrato e adesso dobbiamo fare l'altra. Ci basta piegarlo a metà. Da questo triangolo lo pieghiamo a metà per per diventare un triangolo ma più piccolo. Adesso dobbiamo fare il disegno. tagliamo. Adesso tagliamo. Adesso apriamo e vediamo che succede. Giriamo. Guardate il nostro lavoretto finito. Adesso che il nostro lavoretto è finito lo chiudiamo tenendo insieme tutte e due le orecchie. Così. 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 ne abbiamo messi tra i raggi. Eccolo qui il nostro conigliettino piccolino. Questi simpatici e facili lavoretti di Pasqua sono finite. Guardateli che simpatici. conigliettino piccolino al mare. Guardate il nostro lavoretto. Grazie.